Ho conosciuto Peter Dransfeld e l'ho visto all'opera durante le assemblee dei delegati, dei forum e delle conferenze, delle sezioni e dei gruppi professionali. Mi ha sempre dato l'aria di una persona molto competente, impegnata a favore della SIA e a favore delle nostre professioni. Ho poi avuto modo di conoscerlo personalmente, recentemente, e approfitto dell'occasione per dire a Peter Dransfeld che il comitato di SIA Ticino sarà molto lieto di poterlo incontrare quando avrà il tempo di venire da noi per poter una volta discutere insieme a lui dei temi cari alla SIA e cari al Ticino, cosciente anche del fatto che Peter parla molto bene l'italiano e quindi il dialogo sarà molto semplice. Clima ed energia sono temi che sono anche cari al comitato di SIA Ticino che già nel 2019 avevo organizzato un seminario di studi proprio sul tema dell'energia. Lì ho imparato che un lago è anche un bel serbatoio di energia. Se penso all'energia, da Ticinese penso subito anche agli impianti idroelettrici che sono numerosi e sono stati costruiti nel secolo scorso nelle nostre valli e lì credo ci sia un potenziale importante di ampliamento e di miglioramento dell'efficacia per poter produrre migliore energia o maggiore energia, un'energia che reputo essere quella idroelettrica, energia pulita e da considerare anche energia rinnovabile. Il Ticino ha purtroppo bocciato, come del resto anche la Svizzera, la legge sul CO2 che si aveva difeso con convinzione. Il Ticino ha però anche messo in atto un piano energetico cantonale che assieme ad altri strumenti come il piano direttore potrà definire la politica energetica cantonale dai prossimi anni. L'obiettivo di questo piano energetico cantonale è poter coniugare obiettivi di natura economica e sociale con obiettivi di politica ambientale e climatica. Uno dei temi che la sezione Ticino della Sia porta avanti nel 2022 sarà quello della sostenibilità. Per questo, per esempio, è già stato organizzato in febbraio un seminario di studi sul tema dell'acqua. L'altro tema importante che il Ticino vuole continuare a portare avanti è quello delle commesse pubbliche con le attività del suo osservatorio, questo insieme alle altre associazioni professionali presenti in Ticino. In Ticino ci sarà poi il rinnovo di parte del comitato, due membri verranno sostituiti e qui ne approfitto per fare un appello ai colleghi e alle colleghe ticinesi, ossia quello di partecipare di più nei lavori delle commissioni della Sia. L'apertura delle gallerie di base del San Gottario del Ceneri ci hanno avvicinato e quindi è più facile anche andare oltre Alpe. È importante che i ticinesi si facciano sentire anche a Zurigo.